musica tu eri uno dei famosi playboy di un'altra serata Francesco Francesco, hai rimorchiato dopo quell'intervista? si, abbastanza e adesso visto che siete cresciuti siete di più come vi chiamate? io sono Alessandro Francesco Francesco tu stavi anche l'altra volta certo ragazzi, allora come di consueto fate vedere i bicipiti felice troppo 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 e troppo è Grazie a tutti.